Cambia tutto a Pagani nella gestione del cimitero. I commissari straordinari imprimono una vera e propria rivoluzione che riguarda sia il personale distaccato che le ditte deputate alla raccolta e smaltimento rifiuti. Cominciamo dal personale. A capo di esso, l'ingegner Giancarlo Di Nardi, al quale, come si legge nella delibera di nomina, è stato chiesto di provvedere alla riorganizzazione del settore con l'attribuzione delle mansioni e delle responsabilità di ufficio per perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia del raggiungimento degli obiettivi stessi assegnati. Valutati i curricula dei dipendenti già a disposizione e alla luce dei pensionamenti e dei trasferimenti, gli incarichi sono stati tutti ridistribuiti alla luce di una considerazione non da poco e che cioè, a fronte dei 20 dipendenti previsti dalla dotazione organica, ne sono attualmente assegnate al settore edilizia privata e servizi cimiteriali solamente 12 a tempo pieno ed uno a tempo parziale, con un'evidente carenza strutturale dell'organico. Questione pulizia. Due provvedimenti assunti. Il primo prevede l'impegno in bilancio di una somma preventiva mensile di 6.500 euro per il servizio di prelievo, smaltimento e trasporto non chiede analisi preventiva del materiale di risulta in favore della ditta Ecologia Sant'Alfonso di Sant'Egidio che si è aggiudicata all'appalto. In somma urgenza invece, istante un degrado igienico-sanitario più volte testimoniato anche dalle nostre telecamere, per 700 euro mensili il servizio di svuotamento contenitori presenti all'interno dell'area cimiteriale del Comune è stato affidato alla ditta Eurometal con sede legale a Pagani. Grazie.